Teresa Langella è la tentatrice, che ha attirato l'attenzione di Andrea Celentano Il suo atteggiamento troppo sfrontato nei confronti del fidanzato di Raffaella Giudice In particolare, i telespettatori non hanno gradito il gesto della singola Teresa, che inaspettatamente ha dato un morso sul sedere di Andrea La mia non è presunzione, ma un dubbio che sorge spontaneo Dico che mai e poi mai ho voluto ferire nessuno Sarebbe bastato uscirsene prima e invece no, nonostante la sofferenza, tutti al villaggio rientravano Poi però non date solo la colpa a me, se di colpa dobbiamo parlare. Nessuno è stato obbligato a partecipare E tutti coscienti di ciò che sarebbe potuto accadere La tentatrice ha poi continuato parlando dei tentatori Che hanno preso parte quest'anno al reality condotto da Filippo Bisciglia e di come questi vengano trattati diversamente dal pubblico da casa Per non parlare dell'esistenza dei tentatori che non viene mai citata Le stesse donne che gli sbavano sotto le foto sono quelle che vengono qui a lasciare il bel commento sotto le mie Ah già dimenticavo! Gli uomini possono, e mi venite a parlare di solidarietà femminile Gli uomini possono, e mi ranno, e mi pensi che il momento è più grande Gli uomini possono, e mi ranno, e mi ranno, e mi ritrovare, e mi ranno, e mi ranno, e mi ranno .